Dopo due settimane all'insegna delle polemiche arriva il gesto eloquente che potrebbe cambiare tutto in casa Milan. Inutile nasconderlo, nel match di ieri contro il Venezia, parte dell'attenzione di spettatori e addetti ai lavori era rivolta a Lio e Teo Hernandez. E non solo per le eventuali prodezze in campo che i due avrebbero potuto fare. Ma anche per quanto accaduto poco prima della sosta. Le immagini di Lio e Teo Hernandez che non partecipavano al break con la squadra durante il match con la Lazio hanno fatto il giro di tv, tablet e smartphone in questa settimana. Nonostante le immediate dichiarazioni di rito per ridimensionare il tutto, alcuni già parlavano di spogliatoio spaccato, di crisi del rapporto tra Fonseca e le sue due stelle. La gara contro il Venezia era quindi, oltre che un importante banco di prova per un Milan fino a quel momento sottotono, anche un'occasione per capire a che punto, in una direzione o nell'altra, fosse il rapporto tra il tecnico e due calciatori. E c'è da dire che risposte positive sono arrivate. Sul fronte campo infatti il Milan ha battuto nettamente e senza appello il Venezia. Un 4-0, che ha visto anche la partecipazione con rispettivamente gol e assist di Teo Hernandez e Lio, che è anche la prima vittoria di Fonseca in rosso-nero. Notizie positive però sono anche arrivate dal fronte spogliatoio, il gesto tra Lio e Fonseca infatti non è passato inosservato, mettendo così un punto esclamativo alla questione. Milan, il gesto di Fonseca e Lio non lascia spazio a dubbi. Un abbraccio che, per quanto semplice, assume tutto un significato particolare. Lio, partito titolare e protagonista del match con un assist, è stato sostituito attorno all'ora di gioco. Naturalmente a quel punto c'era grande attesa per la reazione del calciatore e dello stesso tecnico. Il momento dell'incrocio però è stato tutt'altro che polemico, anzi, Lio e Fonseca si sono infatti calorosamente abbracciati. Altro aspetto da sottolineare, soprattutto dopo i malumori che c'erano stati a Parma tra Lio e la tifoseria, è la reazione del pubblico milianista che ha tributato un lungo applauso al momento del cambio. Pace suggellata quindi anche con i supporters rossoneri. Che questi due gesti siano davvero il punto di svolta nella stagione di Lio e di conseguenza anche del Milan.